Ci ho dato un taglio, ci ho dato un taglio ragazzi, sono ritornato un po' più, non lo so, più o meno accalorato. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, capello nuovo, vita nuova, cripto nuove, non lo so, si sale, si scende o si resta in laterale. Ragazzi, ci sono dei segnali sulle criptovalute, ci sono dei segnali su delle altcoin che non sono troppo incoraggianti, quindi in questo video, special video di sabato, perché ieri ho avuto un po' di problemi, sono ancora raffreddato ragazzi, sono ancora nuovamente con una piccola influenza, dopo 14.754 tamponi inutili perché non è ovviamente il covid, avendolo già avuto tra l'altro ragazzi. Non sapevo insomma un po' come fare, quindi ieri vi visite varie eccetera, non sono riuscito a fare il video classico del venerdì, allora lo facciamo di sabato, vediamo se vanno meglio di sabato rispetto a venerdì ragazzi. Quindi datemi una mano come sempre con i pollicioni, iscrivetevi al canale, ma oggi andiamo ad analizzare, analisi tecnica, analisi ciclica e cripto news di quelle che sono 5 criptovalute altcoin che secondo me sono molto rilevanti. Quindi non vi voglio fare, tenete sulle spine, quindi vi spoilerò già direttamente quelle che andremo a fare. Andremo ad analizzare Binance, CRO, quindi cripto.com, Solana, Luna e Step GMP. Perché me l'avete chiesto anche nell'ultima live, vediamo se alle scende questo trend, quanto dura, quanto è un po' durare, ne parliamo in questo video. Quindi questo ragazzi non è un video di top 5 cripto, ma è un video di 5 cripto che andiamo ad analizzare perché sono le top cripto in questo momento particolare di interesse per i follower. Me l'avete scritto in 12.000 commenti nei video e quindi andiamo ad analizzare queste cose. Prima di andare avanti però ragazzi uno spoilerone, uno scillone perché il martedì 3 di maggio facciamo il super webinar sul cripto spread trading. Vi è arrivata già l'email a tutti, una strategia per andare a gestire il vostro portafoglio, fare un po' di trading pensato, intelligente, corretto, adirezionale, quindi neutrale al mercato, utilissimo in questa fase. Quindi ho detto cosa può essere utile in questa fase e soprattutto se i prossimi mesi saranno difficili, vedremo poi nella prossima settimana. Vi parlo un po' di quello che sta succedendo, Nasdaq giornate minimi, total market cap della DeFi in virgola, vediamo anche oggi. Ma cosa può servire in questi mesi? Questa è la strategia top per i prossimi mesi ragazzi, ne parliamo il 3 maggio. Link in descrizione, gratuito, il webinar per tutti i ragazzi e li presenterò anche tutte le news relative a quello che è il mio percorso di formazione. Sapete bene che è stato chiuso qualche mese fa, quindi è tutto rinnovato, ci saranno delle grandi novità di cui per alcune sono veramente felicissimo perché si fa uno step in più. No, si dà una marcia in più a tutta quella che è la community italiana dei trader e di chi si vuole formare, di chi vuole studiare anche l'investimento, non soltanto andare a scommettere o fare il cassettista. 3 maggio ragazzi vi aspetto, poi parto perché vado a Bologna a fare la Crypto Conference e il Crypto Trading Day, il mio evento, il 5 maggio, il Crypto Trading Day ragazzi, il 5 maggio, è tutto sold out. Quindi questo non è un oscillone, non c'è spazio neanche per un capello in aggiunta, saremo oltre 1200 persone presenti lì a Bologna. Il 5 maggio andremo in speech, sia io, Luca, Boiardi e Crypto Edeway, c'è Afterside, c'è anche Mind the Chart, ci sono i fiscalisti che vi parlano delle dichiarazioni fiscali, ci sono i progetti importanti, avremo anche alcuni broker grossi che si occupano di trading e quindi una giornata, un pomeriggio a dire la verità, il 5 pomeriggio, dedicata esclusivamente al trading e agli investimenti nel settore crypto. Quindi no progetti, non ideologie, non altre cose, solo trading, come si fa, come si studia, cosa è importante ragazzi e poi ci incontriamo, stiamo tutti insieme. Quindi Bologna, super evento ragazzi, saremo veramente un macello, penso che sia l'evento più grosso in questo momento che sia stato realizzato per questo numero di iscritti veramente ingestibile secondo me, quindi sono veramente contento. Allora, è finito lo spoilerone, 4 minuti di spoilerone, ma ogni tanto lasciatemi parlare perché ragazzi siamo sempre qui davanti a un monitor, ma insomma è bello anche dirci un po' i fatti nostri, oltre che a vedere solo ed esclusivamente grafici. Va bene ragazzi, qui vedete Nier perché su Nier proprio si verterà anche il webinar che vi sto preparando, quindi la stavo studiacchiando ancora perché devo fare delle cose. Partiamo da Luna ragazzi, Luna is the top crypto ancora perché è riuscita a mantenersi negli scorsi giorni ancora in un atteggiamento non rialzista però accettabile. Se non che ragazzi, dopo il balzo di quello che era una nuova struttura ciclica che probabilmente possiamo far coincidere con il nuovo ciclo trimestrale, chiamiamolo così, di Luna, sta iniziando la fase di ribasso. Attenzione perché andiamo incontro a quella che potrebbe essere la fase ribasista peggiore, attenzione ragazzi, potrebbe, adesso fate attenzione perché vi spiego anche perché e per come, peggiore dei prossimi, degli ultimi anni ragazzi, perché in realtà deve andare a chiudere il ciclo annuale. Quindi per chiudere il ciclo annuale che è iniziato qui in pratica ragazzi verso la parte di maggio 2021, Luna deve fare l'ultima gamba per andare a chiudere questo annuale ternario probabilmente e questa gamba teoricamente è più importante rispetto agli ultimi ribassini che sono stati fatti probabilmente in queste zone. Ora, se rompe quello che è il minimo che ha tirato giù lo scorso aprile ragazzi, che è un minimo intorno ai 74 dollari, inverte il trend di breve periodo in maniera statistico-matematica. Quindi poi il trend con un ai più basso, se va ad invertire breccando la zona dei 75 e 74, conferma l'inversione statistico-matematica del trend. Poi, dopodiché, bisogna vedere dove atterra questa inversione, questa fase ribassista, quanto dura e se poi avrà la forza e bla bla bla, intanto inverte ragazzi. Quindi poi, trend is your friend, non ve lo dimenticate, è fondamentale soprattutto in queste fasi, non andate a pensare di vincere contro il mercato, contro il mercato non ci vince nessuno ragazzi. Una cosa è andare a ragionare e dire ok, i prezzi sono discreti, vado ad accumulare quando ho dei segnali di ripresa. In questo caso i segnali non sono di ripresa, bensì teoricamente Luna dovrebbe andare a chiudere questo ciclo. Quindi io in questo momento ragazzi, su questo tipo di criptovalute, come vi dico già da un po', non vado a prendere posizioni che possano durare per i prossimi 6-7 mesi. Perché in questo momento le vedo estremamente rischiose, quindi se devo inserirmi in qualche cripto che mi dà segnali, andrò su Bitcoin e su Ethereum. Non vado su questo tipo di cripto per i prossimi 3-6 mesi. Poi che mi dite, ah sì io l'ho comprata per i prossimi 10-15 anni, non è quello che vi sto dicendo in questo video ragazzi. Io qui parlo da maggio a settembre del 2022. Quindi qua stiamo parlando di una fase. Fase che poi magari mi darà l'idea di dove poter andare a riaccumulare questa cripto. Questo che sicuramente ha dimostrato di essere estremamente imponente sui mercati e soprattutto avere un team che sa quello che fa. Che nelle criptovalute ragazzi è essenzialmente il 70% del valore vero di una cripto. Cioè avere un team di sviluppo, un team che sostiene il token, che dà grande peso, dà grande rilevanza. Allora Luna, questa è una fase di appoggio. Tutto dipende sempre da Nasdaq come vi ho detto nell'ultima live che era la live dei lag ragazzi. Scusate ma internet non dipende da me e la fibra laggava. Allora se questo minimo verrà rotto probabilmente andremo diretti poi in chiusura ragazzi tra zigzag di questa fase. Quindi questa fase per Luna secondo me è estremamente delicata. Non vado long in questo momento, preferisco andare long su altre cripto. Quindi se ho segnali long vado long su altre cripto. Ma difficilmente secondo me sarà così perché già andando a guardare quello che è il grafico della Total Market Cap della DeFi si vede in maniera abbastanza evidente che siamo atterrati nuovamente sui 118 billion. Questa zona delicatissima insieme a questa fascia, quindi tutta questa fascia qua, il rettangolino. Delicatissimo perché è breccato e confermato in close della settimana e indica anche qui un'inversione di breve medio periodo. In questo caso perché siamo sul grafico settimanale di tutte le top della DeFi di cui Luna ovviamente fa parte. Quindi questo è il discorso ragazzi. Dopodiché andiamo in chiusura ciclica di questo pattern. Ve ne sto parlando ormai da sei mesi, non sei, tre mesi scusate, ve ne sto parlando da tre mesi. Purtroppo questo rimbalzo del gatto morto è il più pericoloso, la figura peggiore possibile. E questa fase confermata al ribasso, insomma, lascia pochi dubbi. È vero che ancora non abbiamo breccato quell'aria ma è pericolosissimo ragazzi. Io penso che se il mercato scivola le total market cap sotto quest'aria e dà l'impressione anche in una sola settimana di breccare i 100 billion, io vedo un scivolone drastico con un flash crash che dovremo assolutamente andare a monitorare. Sono mesi che vi dico di non sovraesporvi sul cripto per diminuire la volatilità del vostro portafoglio. Ok Bitcoin, ok Ethereum, ok delle top, però ragazzi va bene Luna, avete visto, è forte e tutto il resto. Però mi raccomando, non vi sovraesponete in termini di money management. Una cosa è mettere su 5% del vostro portafoglio. Una cosa è aver su questa roba, il 60% del vostro portafoglio rischiate veramente di finire a zero. E questo non è il modo giusto di investire sia se siete holder, sia se siete trader. Non cambia niente, non si investe mettendo tutte le uova in un paniere, soprattutto se quel paniere è fortemente volatile. Questo è il discorso, poi è chiaro ragazzi, se avete 1000 euro magari non vi pesano, è un discorso, ok? Parlo sempre in visione di quello che può essere la gestione di un portafoglio equilibrato da 100-200 mila euro, ma anche 10 mila ragazzi, perché no? Quindi equilibrato un portafoglio, insomma, discretuccio, quindi non la scommessina da 100 euro, va bene? Quindi questo è fondamentale di avvedere Solana, perché Solana sta reggendo poco poco di più in questa fase rispetto a Luna, ma aveva performato male nelle fasi precedenti. Anche Solana, analisi ciclica, la struttura ciclica di Solana è la stessa. In questa zona si è chiuso un ciclo semestrale, probabilmente per Solana, intorno ai 220 giorni. E adesso ha iniziato una nuova fase confermata da questo app, debolissima ragazzi, quindi o Nasdaq ci dà la forza di riprendere un trend al rialzo, oppure la questione si mette male, perché anche su Solana, breccato questo livello, si va in conferma di una inversione di medio periodo di trend. Perché qui abbiamo un massimo, massimo decisamente più basso, con un minimo qui. Se andiamo a breccare questo minimo e finiamo qui, a questo punto, avremo un'inversione statistico-matematica del trend che girerà e virerà in trend ribassista di medio periodo. Su Solana, questo è il significato. Poi, anche qui ragazzi, il trend dura fino a quando, quando chiude. Allora, al momento, quello ce lo può dire, sono un'analisi ciclica che abbiamo delle scadenze temporali da giugno barra settembre, quindi sono importanti queste zone. Però ragazzi, un trend ribassista non dovete sottovalutarlo, perché in ogni caso può creare danni. Va bene, al di là degli zigzag di una settimana, del rimbalzo di una settimana, di un giorno ragazzi, non è quello di cui vi sto parlando. Vi parlo di 3-6 mesi, va bene? Non vi sto parlando né di trading a un giorno e né di cassettisti da 10 anni, va bene? Perché se no poi non capite e mi dite, ma ora hai detto questo, ho detto questo perché in 3-6 mesi funziona in questo modo ragazzi, va bene? Quindi quello è il concetto un po' da andare a gestire. Ancora Nasdaq non ha dato segnale, se in base la settimana prossima si dovrà vedere, sta facendo veramente i conti con queste fasi veramente complicate. Dipenderà probabilmente tutto da Nasdaq. Quindi in questo momento sull'ANA no, nemmeno perché anche di breve vedete il trend è a ribasso, le fasi di possibile compensazione. Questa zona supporto 76 al di sotto di questa inversione definitiva del trend di medio periodo potrebbe poi atterrare ai 58 questa zona di supporto importante sotto i 58 la terra di nessuno. Cioè sotto i 58 tutta quest'area può fare zigzag che però è un zigzag da 50 punti percentuali ragazzi. Quindi pensate un po' che volatilità e qui se ci scendiamo i trader si fanno, si divertono. Allora come si può andare a fare profitto utilizzando questi trend a ribasso? Vi ho fatto tutti i tutorial relativi per esempio a come si può fare short selling. Ragazzi vi ho spiegato un po' di cose. C'è un tutorial definitivo sull'exchange da utilizzare. FTX va benissimo per lo short, Binance ancora non ce lo consente. FTX va bene, Delta Exchange va bene, Prime XTB va bene con la VPN. Non potete farlo senza VPN in Italia non funziona più Prime. Ci sono altri exchange che vi consentono di fare il margin per fare lo short selling, Bitfinex lo fa. Però ragazzi ovviamente per operazioni più veloci FTX, Delta e Prime sono quelle più facili. Dipende un po' dalla leva perché FTX adesso vi dà la leva fino a 2 se non siete utenti pro. Speriamo che sblocchino questa cosa, Delta ancora vi dà la leva massima insieme a Prime XBT. Ragazzi vi lascio i link in descrizione e vi date la mano come sempre. Con i rep andiamo a vedere CRO. Perché Crypto.com anche lei sta avendo una fase un po' particolare e diciamo anche rispetto a BNB. Perché da una parte BNB sembra performare un po' meglio di Crypto.com. Crypto.com ha fallito il rialzo al di sopra degli 0.55 che era un livello importantissimo che doveva assolutamente essere raggiunto dalla Crypto.com da Kronos. Ragazzi non c'è riuscita, dopodiché sta disegnando questa struttura. Vedete che è una M abbastanza importante. Non è pericolosissima diciamo questa fase ancora come Luna, come Solana. Bisogna andare a vedere se riesce a resistere quel minimo lì che adesso stiamo vedendo. Siamo a 98 giorni, 99. Sono un po' tantini ragazzi, un po' tantini perché io ho paura che il trimestrale sia stato chiuso qui ed è il successivo e già al ribasso. Se dovesse verificarsi una cosa del genere ce la vediamo veramente male ragazzi perché vuol dire che tutto questo ciclo è già al ribasso. Quindi in pratica la Crypto farà una cosa del genere probabilmente e poi andrà veramente così. Non lo so, non ho ancora dati sufficienti, non voglio fare spauracchi, non voglio fare pad, non mi interessano queste cose. Mi interessa analizzare le ipotesi. Ragazzi ricordatevi ogni volta che andate a prendere queste cose dovete analizzare tutte le ipotesi possibili. Quindi si fa così, il trading e l'investimento non si scommette sul futuro come se fosse una previsione del mago Ronzo ragazzi o del mago di quei maghi insomma da bancarella. Allora questo è la questione. Allora ragazzi primo livello di supporto importantissimo 032 per quanto riguarda Crypto.com. Se brecca anche quel livello non mi piace ragazzi. Io purtroppo continuo a vedere dei atteggiamenti che sono rischiosissimi. Solo ed esclusivamente una ripresa ciclica importante che viene guidata quindi driven dal Nasdaq 100, me ne ho parlato nell'ultima live, può portare a un'inversione di questa tendenza. e CRO solo al di sopra di 0,54 inverte il trend di medio periodo ritornando a un trend rialzista. Prima di quel livello questa Crypto è laterale, ribassista o ribassista. Non c'è soluzione ragazzi. E quello è il problema. E non c'è riuscita prima perché qui ha fallito due volte il tentativo di superare questa fascia. Quindi potrebbe ritornare a provarci? Assolutamente sì. Attenzione che se riesce a resistere questo minimo così come per l'una, così come per Sonana e la Crypto dimostra forza. Lo farà chiaramente ragazzi solo lungamente nel momento in cui Bitcoin dai là. Se riesce a resistere, attenzione perché 1, 2, 3 zone e si va al test poi se brecca ha più forza ancora di prima. Quindi i mercati sono ambivalenti perciò questa è una fase delicata ragazzi. Non si può operare su questo Crypto. Non potete fare nulla in questo momento se non trading. Se siete holder attendete perché se resiste poi si riparte. Se siete in fase di ingresso potete magari decidere di entrare sulla parte bassa e uscire subito se brecca. Quindi con un minimo rischio è interessante questa strategia potrebbe essere. Ma se insomma siete lì alla finestra io resterei appunto. Alla finestra in questo momento io ho i miei CRO quelli che conservo per la carta e tutto il resto non ne ho altri. Ne ho 10.000 se non ero una cosa del genere per le questioni legate alla DeFi loro che stavo provando Kronos. Li tengo e li terrò perché non sono diciamo grandi cifre. Però ragazzi questa è la fase attualmente. Poi nel lungo periodo può risalire, può insomma andare to the moon sicuramente tutto è possibile. Però io mi starei fortemente attento al momento. Binance BNB che in questo momento è leggermente meglio messa meglio di Crypto.com. Anche lei sta affrontando la stessa identica struttura ciclica. Avete visto come i cicli, come le strutture delle crypto si stanno man mano livellando ragazzi con una correlazione che è naturale. Ve lo dico, molti di voi diranno Mauro non è così è, peccato, dovremmo essere decorrelati. Gli strumenti che sono appartenenti a uno singolo settore si correlano tra di loro quasi sempre. Tranne alcune crypto. Per esempio la migliore in questo momento che era l'una, come l'ho fatto vedere all'inizio, è leggermente decorrelata sia per ciclo sia per forza di trend. Probabilmente si andrà a correlare nella chiusura ciclica annuale a Bitcoin ed Ethereum. Poi vedremo ovviamente questo solitamente è l'atteggiamento del mercato. BNB, fase di atteggiamento molto simile a quella di luna, ancora una volta, e in teoria deve andare a chiudere il ciclo annuale. Verso prima, verso luglio appunto, questa fase qua. Allora, questa fase di bassista a retto è ancora lontana da questa zona di 331. Se dovesse breccare 331 finisce male come le altre, però vedete c'è riuscita ancora a stare. È un po' più alta, quindi la preferisco rispetto magari a Crypto.com in questo momento che invece è molto vicina al suo livello di supporto ed è veramente pericolosa. È chiaro ragazzi, anche qui solo ed unicamente un break di zona 4, 6, 5 dà il via a un nuovo trend con rinnovata forza. Perché al momento questa fase è andata qui, però è una correzione di un trend precedente. Quindi attenzione al break fatto così perché poi si scivola sicuramente intorno ai 2,60-300 dollaroni. Quindi mi raccomando anche in questa fase, attenzione perché tutte le mie energie, le mie focalizzazioni saranno indirizzate nei prossimi mesi alla scadenza del ciclo annuale. Perché dopo un ciclo annuale ne inizia un altro. Ed è quello che a noi ci interessa perché il successivo dovrebbe essere un ciclo di ripresa di una nuova fase per quanto riguarda le crypto. Perché questa fase 2021, metà 2021 e 2022 è la fase di chiusura della bolla che avevamo visto dal marzo 2020 e poi. Quindi è giusto così e nel ciclo dell'alving poi si rinnoverà andremo a vedere se Bitcoin avrà la forza di essere ancora come negli anni scorsi oppure se perderà l'aderenza. Abbiamo già visto i tentativi finiti male poi per quanto riguarda la questione dello soft to flow. Andiamo a vedere la new entry quindi Steppen. Ed eccola qua ragazzi, allora abbiamo GMT, Steppen, la questione di GMT lo ve la metto anche su CoinMarketCap. Eccola qui ragazzi, la questione di GMT nell'ultima live l'ho approfondita. Relativa alla questione della capitalizzazione quindi in folli diluted è assolutamente straelevata per una crypto di questo tipo. Ci può stare perché il servizio che offre è veramente molto buono però è pericoloso. Allora qui io direi crypto del genere lasciate perdere questa fase che ovviamente era così hanno dimostrato veramente grande forza ma andrei con i piedi di piombo e soprattutto andrei in solo ed esclusivamente trading. Quindi non farei in nessun modo holding di una crypto di questo tipo ma la seguirei come si segue un investimento di trading. Allora andiamo a dettare quelli che sono dei livelli che potrebbero essere importanti per GMT per sostenere, per essere ancora in trend iper rialzista come sta facendo. E quali sono invece i livelli pericolosi perché io non ce l'ho però molti di voi magari l'hanno presa e in questo momento stanno cercando di decidere se devono uscire o non devono uscire. Dal mio punto di vista crypto di questo tipo che sono iper volatili e hanno fatto rialzi abnormi io li gestisco esclusivamente con operazioni in trailing, stop e in trading. Perché ragazzi andare a tenere crypto del genere che sono vi ripeto interessanti, il progetto è una figata, è pazzesca. Però il problema è che non abbiamo idea del valore, ve lo sicuro proprio che nessuno ce l'ha. Quindi al di fuori di ideologie, di mentalità e di speranze stiamo parlando del nulla quindi non abbiamo idea di quanto può tirar su e quindi seguite il trend su questo crypto se volete fare l'operazione giusta. Poi è difficile sicuramente, questi tipi di crypto sono più difficili delle altre e quindi già ve lo accenno questa cosa qui insomma è fatta così. Allora andiamo a tirare su i livelli, i livelli di supporto in questo caso sono solo di natura orizzontale, non ci sono livelli da utilizzare in termini di trendline. Perché? Perché? Perché una trendline su un grafico del genere non ha senso. Se lo volete sapere perché c'è il corso di formazione, poi l'errore ho oscillato proprio il corso, non ve lo dico se non mi comprate. Va bene ragazzi dai, in realtà fatemi sorridere, no, non ci sono le trendline perché questi sono trend di natura esponenziale quindi non possono funzionare perché dovremmo guardarla così questa qui. Una trendline su un trend del genere ragazzi, scusate se ve lo dico ma non ha nessun senso perché è una questione proprio di struttura di un trend. Questo tipo di trendline anche se breccano non hanno nessuna validità né nel mantenimento diciamo del canale rialzista e nemmeno nell'inversione. Quindi io sono pochi dati quindi lasciatele perdere, usate esclusivamente. Insomma questo è il mio consiglio, poi fate come vi trovate meglio perché non do consigli finanziari. Vi dico come la penso, è una questione proprio di struttura del mercato, di questo tipo di asset cripto. Allora andiamo a vedere poi la questione legata al primo livello di supporto che è i 3 dollari circa, mentre il livello in alto i 4,50 io direi, quindi questa zona 4,40 scusate, ma 4,50 e il livello di resistenza per Steppen. Allora questa cripto come si va a tradare ragazzi? Intanto andare short su una cripto del genere lo potete anche fare ma solo esclusivamente come trading e ricordatevi che poi sopra questi livelli andate in stop. È un livello di stop e molto alto su cripto di questo tipo perché se qui andate in short poi vi trovate qui sotto a meno 20 quindi ricordatevelo una cosa del genere. Se invece andate in long e da questo punto vi crolla al di sotto del supporto vi fate meno 30 per lo stop loss. Questo cosa significa? Che dovete bilanciare la vostra posizione di trading adeguandovi a questi livelli di oscillazione. Queste cripto oscillano tanto. Quindi non dovete assolutamente mettere su uno stop del 2% con delle regolette che avete letto su 4 libri perché non vanno bene su cripto di questo tipo perché queste cripto così sono troppo volatili quindi dovete dare spazio guardate che dal mese di marzo quindi da circa un mese se facciamo 30-29 abbiamo fatto roba come ragazzi circa il 200% quindi se vogliamo fare proprio da marzo 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 il 156% in un mese mentre poi da giù cifre improponibili 1000% e quant'altro. Non c'è altro da dire in Steppen sarebbe in realtà possibile uno shortone da trading questo è interessante perché potrebbe in effetti perdere la sua struttura e riequilibrarsi se dovessi preferire un'operazione di trading su questa cripto io preferirei lo short non vado short però perché sarei contro trend e quindi dovrei avere un segnale su un time frame più basso proprio da trader quindi vado sull'orario mi costruisco la mia strategia il mio trading plan vado a creare il mio short vado a seguirlo con stop loss il trading stop e tutto il resto quindi solo trading su Steppen. Va bene ragazzi allora ci siamo detti un bel po' di cose un sacco di minuti in questo video ci vediamo il 3 maggio con tutti quanti voi al webinar vi lascio il link per la registrazione gratuito ragazzi quindi non ve lo perdete e poi lunedì video aggiornamento su tutto quello che sta succedendo a bitcoin e nasdaq che batosta ragazzi che botta lingua di buyer inversione a breve perché scorre il sangue sotto i ponti oppure scendiamo fino a settembre se scendiamo fino a settembre amara estate ci vediamo lunedì ciao